Oggi 14 marzo 2012 festeggiamo la prima edizione del P-Day al liceo scientifico di Cariatti. È una festa che fu introdotta dal fisico americano Larry Shaw per avere la possibilità di parlare di matematica in un modo diverso dal solito, in un modo ludico e divertente. Insieme ai ragazzi del liceo e in particolare alla classe quarta A e terza B abbiamo organizzato questa manifestazione nella quale ho il piacere di presentare un mio libro, il racconto Alice e Pierre nel paese della matematica, editoriale Progetto 2000. In questo racconto due protagonisti, Alice e Pierre, che in persona hanno due liceali, si troveranno ad affrontare un'avventura sul web, un'avventura matematica. Per risolvere questo gioco dovranno superare diversi livelli e ognuno di questi livelli proporrà loro un rebus che ha a che fare con la matematica, con la storia della matematica, ma questo sapere si intreccerà anche con l'arte, con la musica, la musica moderna, l'astronomia, la letteratura e anche il latino. Quindi un discorso interdisciplinare. Per quanto riguarda l'avventura che dovranno svolgere questi due ragazzi, non si troveranno da soli, ma saranno aiutati da una professoressa in pensione, la professoressa Josefin, la quale, summa magistra, rappresenterà il modello didattico al quale tutti noi dovremmo riferirci. Per concludere questo breve messaggio vorrei leggervi la frase che c'è in quarte di Cobertina. La conoscenza della matematica rende liberi, non rifitarla prima di assaporarne le delizie, si critico verso chi ne parla male ignorandola e proteggiti da chi non conoscendola pretende di presentartela. Grazie a tutti ed è P.P. Day. Grazie a tutti.